cari amici di regina della pace la pace la gioia dei santi sia sempre con voi e nei vostri cuori vi rimanga sempre oggi 4 marzo la chiesa celebra la memoria di san casimiro di polonia casimiro nacque il 3 ottobre 1458 nel castello reale di cracovia fu il terzo genito di casimiro iv re di polonia e granduca di lituania e di elisabetta d'austria dalla giovinezza dimostrò di avere una grande forza di volontà un nobile carattere e un profondo spirito di pietà e di penitenza ricco di rari doti di intelletto studiò e imparò con grande facilità e soprattutto ricevette una solida formazione religiosa per cui non dimenticò mai anche in mezzo alle occupazioni pubbliche i suoi impegni di cristiano quando il padre si trasferì in lituania per sfuggire al complotto dei principi russi che tramavano contro la famiglia reale casimiro seppe gestire gli affari di stato per conto del padre con intelligenza e saggezza ristabilendo l'ordine nel regno nello stesso anno 1481 per ragioni politico diplomatiche si avviarono trattative per il matrimonio di casimiro con la figlia dell'imperatore federico terzo ma il principe non ne volle sapere perché aveva consacrato la sua vita a dio trasferitosi poi in lituania seppe consolidarvi il cattolicesimo introdotto nel gran ducato solo tardivamente dando esempio di grandi virtù praticando la carità operosa versi poveri l'amore profondo a gesù nel sacramento dell'eucarestia e alla santissima vergine maria morì il 4 marzo 1484 nel castello di gardina in lituania a soli 25 anni colpito da tubercolosi casimiro in polonia e lituania viene venerato come protettore della gioventù viene canonizzato intorno all'anno 1521 bene carissimi oggi terminiamo qui il nostro appuntamento pace gioia a tutti voi